Stordita con una droga sciolta in un drink e violentata da uno sconosciuto incontrato in un locale di Monastier, questa la denuncia fatta da una diciassettenne trevigiana e su cui ora stanno indagando i carabinieri. La violenza si sarebbe consumata nella notte tra domenica e lunedì ed è stata confermata dai medici. È avvenuta quando la giovane era probabilmente priva di sensi. La ragazzina, dopo essersi risvegliata, ha capito che qualcosa di grave era successo e ha raccontato tutto ai genitori. La minorenne ha trascorso la serata all'interno della discoteca dove ha conosciuto un giovane, poi il blackout. La ragazza non ricorda più nulla. La violenza si è consumata appena fuori dal locale. Al momento del risveglio la confessione la visita al caffoncello. Ora i militari dell'arma hanno avviato un'indagine per tentare di ricostruire quello che è successo nella notte di domenica Monastier e soprattutto per dare un volto ed un nome all'uomo che avrebbe abusato della minorenne. Il colpevole, con ogni probabilità, ha sciolto della droga nel bicchiere della ragazza e poi, dopo averla stordita, ha approfittato della situazione.